Si è insediato ufficialmente il nuovo questore di Lucca, Maurizio Dallemura, che prende il comando della questura lucchese dopo quella di Treviso, a cui era capo dal 23 novembre 2016. Numerose le incariche ricoperte in carriera, iniziata dal 1986 con il comando del reparto mobile di Milano. Poi ha numerose esperienze in Toscana, con incariche nelle questure di Livorno e Massa Carrara e al centro operativo della DIA di Firenze. Sinergia con le altre forze dell'ordine e preciso rispetto dei ruoli, tra i punti principali con cui il nuovo questore si è presentato. Allora io mi ispiro a due semplici principi. Ognuno deve fare il suo e da soli non si va da nessuna parte. Quindi verrà riproposto il modulo dell'assoluta sinergia con l'arma del carabinieri, la guardia di finanza, i vigili del fuoco, che hanno una grande importanza per l'attività che svolgono, e con la polizia locale. Per quanto riguarda l'ordine e sicurezza pubblica, il questore è l'autorità provinciale, però non possiamo dimenticare che il prefetto è autorità politica di ordine e sicurezza pubblica. E ritengo che anche con la prefettura, così come è stato in passato, debba continuare questa opera di assoluta collaborazione, assoluta leale collaborazione. A Lucca, il questore dalle mura, ritrova anche il procuratore Sucan, con cui ha lavorato in passato durante l'esperienza alla Dia Fiorentina. Il procuratore Sucan è stato in distrettuale quando io ero capo di centro per l'attività di Firenze e ha avuto la fortuna di conoscere un magistrato di grande competenza e di grande preparazione professionale. Non solo, anche dal punto di vista umano mi sono trovato molto molto bene con lui.